Vediamo l'agibilità, secondo la legge, sempre la solita legge regionale numero 1 del 2015 legge della regione Umbria. Che cos'è l'agibilità? L'agibilità è di fatto l'atto conclusivo del processo edilizio, cioè al termine dei lavori, prima dell'utilizzo reale dell'edificio o dell'opera realizzata, è necessario richiedere un'agibilità. L'agibilità che cos'è? Attesta fondamentalmente che l'opera realizzata è conforme al progetto e che ci sono tutti i rispetti delle normative e tutte le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, sicurezza degli impianti e quant'altro. Va bene, quindi di fatto è un certificato finale con cui viene diciamo così certificato appunto che l'opera realizzata è conforme al progetto e conforme alle normative e può essere utilizzata in sicurezza. Allora, quali sono gli interventi soggetti ad agibilità? Fondamentalmente gli interventi diciamo così più importanti, diciamo orientativamente anche se non è proprio esatto, gli interventi soggetti a permesso di costruire in linea di massima, quindi principalmente tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni sia edilizie che urbanistiche e le modifiche di destinazione d'uso. Per tutti gli interventi che non ricadono in questo elenco appena letto è possibile fare un'agibilità ridotta che si chiama DAG che di fatto è una dichiarazione che tiene luogo all'agibilità, una dichiarazione che viene fatta dal direttore dei lavori e dall'intestatario del titolo abilitativo che di fatto diciamo così dichiara che le opere realizzate rispondono al progetto presentato e a tutte le normative. Di fatto vengono dichiarate le stesse cose solo che in questo caso vengono dichiarate in modo un pochino più rapido. Allora, quali sono le modalità di presentazione? La modalità di presentazione va presentata come sempre al suo APE entro 90 giorni dalla data d'ultimazione dei lavori. A questa richiesta vanno allegati un buon numero di documenti. Vediamo adesso quali sono. Chiaramente in alcuni casi può succedere che qualcuno di questi documenti non è necessario. Questo dipende dalla particolare opera che è stata realizzata. Comunque sicuramente va allegata l'attestazione dell'iscrizione al cadastro oppure della variazione cadastrale nel caso in cui parliamo di una ristrutturazione. Iscrizione totale nel caso ovviamente di una di una nuova costruzione. Poi dopo ci sono tutta una serie di dichiarazioni di cui la maggior parte vengono effettuate dal direttore dei lavori e qualcuno dall'impresa di cui per esempio la prima il direttore dei lavori dichiara la conformità rispetto al progetto. Quindi dichiara l'opera realizzata e conforme al progetto e dichiara poi tradizionalmente anche l'avvenuta la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. Il direttore dei lavori dichiara che sono stati fatti tutti gli adempimenti relativi alle opere di urbanizzazione. Quindi l'eventuale realizzazione di qualcosa che era di competenza del richiedente il titolo abilitativo oppure tutte le procedure amministrative richieste. Poi serve una dichiarazione questa volta dell'impresa che dichiara la conformità degli impianti. Quindi tutti gli impianti che ci sono elettrico, idrico, riscaldamento eccetera devono essere conformi alla normativa. Quindi l'installatore quindi l'impresa installatrice deve fare questa dichiarazione. Se abbiamo più imprese installatrici perché ci sono impianti di tipo diverso come spesso è ci saranno più dichiarazioni una per ogni tipo di impianto da parte delle varie imprese che hanno realizzato questi impianti. Va poi sempre allegata alla documentazione fotografica. Questo perché non esiste di fatto un sopralluogo da parte del comune nella prassi generica per cui ci si basa sulla documentazione fotografica. Quindi tutto quello che viene dichiarato deve essere anche diciamo così provato da una documentazione fotografica. Quando serve ossia quando l'opera riguarda pure delle strutture è necessario il collato statico. Oltre a questo sono previsti anche eventuali altri adempimenti per le zone sismiche. questa parte riguarda sempre le strutture. Va allegata anche una dichiarazione di conformità per tutto quello che riguarda l'aspetto delle barriere architettoniche. Va allegato copia del DURC dell'impresa esecutrice. Quindi l'impresa esecutrice, questo DURC che è il documento unico di regolarità contributiva che era stato già allegato all'inizio dei lavori, quindi relativamente all'impresa deve essere allegato nuovamente alla fine dei lavori. Ovviamente se è scaduto quello precedente. Oppure nel caso in cui non è scaduto viene allegato lo stesso DURC. Ma se i lavori come spesso accade soprattutto per le nuove costruzioni durano anche qualche anno c'è bisogno di un nuovo DURC alla fine che attesta che al momento della fine dei lavori l'impresa è in una situazione di regolarità per il versamento dei vari tipi di contributi. Poi dopo in alcuni casi particolari vanno aggiunti anche i progetti degli impianti. Va anche qui quando serve allegato all'attestato di prestazione energetica detto APE e anche l'eventuale certificazione di sostenibilità ambientale. È chiaro che questi ultimi punti in caso di opere che richiedono questo. Quindi fondamentalmente tutta la documentazione che serve per attestare diciamo così la regolarità dell'opera, la conformità dell'opera alle normative e al progetto presentato. Qual è la tempistica? Allora anche qui il SUAPE che è l'ufficio che recepisce questa richiesta di agibilità può dichiarare l'irricevibilità entro dieci giorni nel caso in cui chiaramente la documentazione è incompleta o irregolare. Va bene non esiste poi di fatto una dichiarazione di agibilità ma l'agibilità è attestata dalla ricevuta. Per cui di fatto se entro dieci giorni non abbiamo ricevuto nessuna dichiarazione di ricevibilità di fatto la diciamo così l'iter si può considerare concluso. Fermo restando che il comune ha sempre la possibilità a seguito di controlli di rimuovere gli effetti dell'agibilità quindi di fatto di sospenderla nel senso che entro dieci giorni può dichiarare l'irricevibilità. Dopo i dieci giorni di fatto io ho l'agibilità perché la ricevuta di presentazione sostituisce di fatto l'agibilità. Fermo restando che il comune può annullarla nel caso in cui per effetto di alcuni controlli determina appunto l'irregolarità della documentazione o di quanto è stato dichiarato.